Dalla strumenta di San Paolo, l'Apostolo e l'Agnunzio, consigliate la nostra famosa, non ci sono fruttoni di sapere, dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti nuovi. Ma quello che è solito nel mondo, Dio va scelto per il corso dei studenti. Quello che è del mondo, Dio va scelto per il corso dei studenti. Quello che è il nome che è spazzato nel mondo, quello che è il mio nome, Dio va scelto per il tutto e per il tutto, per il consenso di tutti, perché nessuno possa abbracciarsi di fronte di lui. Grazie a tutti, tu siete il mio suo Gesù, il cuore dei muri in un anno di sapienza, però non è di Dio. Giustizia, santificazione e le lezioni, perché, come si è scritto, cristalda, grazie a tutti. Parola di Dio, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.